Le comunali 2012 si stanno caratterizzando per un calo dell'affluenza alle urne. Come mai? Che cosa ne pensa? Facciamo considerazione di carattere più generale. In questi giorni, oltre alle comunali a Casano, sono state le presidenziali in Francia, le elezioni in alcuni land tedeschi, in Grecia e via dicendo, dappertutto c'è stato un calo nell'affluenza. Io avanzo un'ipotesi, a prescindere da questo orientamento prevalente che vede la destra sconfitta e il ritorno della sinistra, c'è, mi pare, al di là di questo, anche e soprattutto il ritorno del cittadino comune che ha sempre più voglia di dire la sua. E nel momento in cui la politica delude ad essere a manca, il cittadino comune si ritira. Questo è successo anche a Casarano? Sicuramente, sicuramente. E' un'analisi del voto? Ah no, e come faccio a fare un'analisi del voto se ancora non conosco i risultati? Di come sta andando, nel senso dell'interesse che sta suscitando? Mi pare che l'interesse a livello nazionale sia superiore rispetto al prevedibile, se non altro perché i sondaggi fino a ieri sparavano numeri pazzeschi di astensione di indecisi che andavano prossimi o oltre il 50%, poi abbiamo visto che la flessione, sì, c'è stata, ma è stata molto contenuta. Perché? Perché i cittadini comuni sono sì rimasti delusi e via dicendo, ma hanno voglia di dire la loro. Una domanda a bruciapelo. A Casarano chi vince? Una risposta a bruciapelo, non lo so.